Allora, quando c'erano i matrimoni, il primo pranzo si faceva la casa della sposa. Dello sposo? Dello sposo. E poi, dopo una settimana... Si ritornava dal viaggio di nozze. Chi lo faceva? Chi lo faceva? Vabbè. E si faceva il pranzo i genitori della sposa. Tutti gli invitati che erano stati prima ritornavano un'altra volta. Due pranzi erano, erano proprio di prassi. Era più bello. No, beh, era un'altra cosa. Era la mazza lavorata la questione. Però c'era intorno l'aiuto di tanti parenti che venivano, stavano una settimana, prima e dopo, aiutati a mangiare e bevevano. Finché non l'avevano messo a posto, riportavi i piatti che ti avevano prestati. I piatti prestati, ognuno... Perché i piatti, se io c'erano un servizio, erano a 12. Prima ci stavano pure da 24, con la porta... Allora tu me li prestavi, lei me li prestava, io me li avevo e se arrivavano 100 piatti. E poi quando si erano risciacquati, perché mi restavano la nostra figlia, risciacquati, tutto a mano, tutte cose. E poi se ridavano, se guardavano tutti sotto, dove stavano, allora questo ci stava e... Tutte le tovaglie si prestavano, certo, pure le tovaglie per parecchiare. Tutte le tovaglie, perché le tovaglie poi dovrebbero essere tutte bianche. Tutte bianche. Allora, se io ero invitato al matrimonio e ci avevo tutta la famiglia, no? Preparavo un canestro con pane, uno grande con il pane, con la bacinella con le uova e la farina, lo zucchero, il caffè, la pasta, i pomodori, i pelati, chi ce l'aveva? Le pomodori portavi due bottiglie delle due, ognuno, l'olio, a uno più piccolo, di canestro ci mettevano il vino, la frutta e che altro ci mettevano? Qualche licorino, purtroppo. Poi chi c'aveva gli agnelli portava l'agnello, tutto infiocchettato, col campanello che suonava per la strada che la gente si affacciava, chi c'aveva il pollo portava il gallo, sempre col fiocco, pure i conigli, chi c'aveva il coniglio, Tutto, si portava tutto, perché poi con quella roba si faceva il pranzo, i dolci si facevano in casa, i dolci si facevano una settimana prima perché veniva tutto il paese alle nozze, le ciambelle, le disigelle, le amaretti, i biscotti, i biscotti, i biscotti, i biscotti, prima si facevano cinque qualità delle due, e cinque se ne ripettevano al canestro perché poi quando venivi te mangiavi quello che c'era, bevi un bicchiere di vino, e quelle che venivano a cosa, se cantavano poi dentro, se cantava, se faceva proprio veramente pespa. Se bere un bicchiere di vino, che cosa, forse usava pure l'aranciata, allora non ci stava, era solo il vino e l'acqua, questa della copanella. tante persone, Raffaele, andavano alle nozze, che beve su un bicchiere di vino perché non ce l'aveva ormai.